Senta, l'Emilia Romagna è un'altra delle regioni che, voglio dire, c'è stato uno che ha provato a fregarla, voleva fare il pentito. Se lo ricorda come si chiama? Sì, Nicolino Grandi Arachi. Nicolino Grandi Arachi, detto, ma li dico perché non sapevo che avesse avuto un incidente, aveva una mano offesa. Ecco, perché ha tentato di fregarla, voleva fare il pentito? Come si è accorto che era un falso pentito? I capelli bianchi sono importanti. L'esperienza. Sono importanti in queste cose. Io dico sempre ai miei ragazzi, ai miei giovani colleghi, nel nostro lavoro non bisogna avere l'ansia da prestare. Il nostro lavoro bisogna allenarsi a controllare gli impulsi, allenarsi ad essere freddi, a ragionare, a controllare anche la mimica facciale. Io molte volte durante il giorno vengono persone nel mio ufficio a trovarmi e già da come entrano, già da come si siedono capisco che stanno venendo lì a raccontare bugie. Ma lei mi va in faccia, gli occhi, cosa riesce a percepire? Riesco a capire, sono i miei trucchi del mestiere. E quindi riesco a capire. Allora la cosa importante in quei momenti, mentre quella persona di fronte a me mi recita, è controllare la mimica facciale. Cioè uno non deve capire che ho capito. E quindi stare al suo gioco. E quindi far finta che io sono l'idiota che abbocca. Ora, nel caso di specie, che mi ha scritto che voleva parlare con me, che voleva incontrarmi in segreto, eccetera, eccetera. Cosa ha rappresentato insieme a Oliveri? Vado a sentirlo. Dove l'ha sentito? La prima volta siamo stati a Milano, poi l'abbiamo spostato. Ma vado con un altro collega, esperto di aria, e quindi lo facciamo parlare. Io ovviamente, io a tutte le persone che chiedono di collaborare con me, voglio pentirmi. E lui dico una cosa importante. Guardi, lei se vuole parlare, se lei vuole che io le firmi il programma di protezione, lei deve dire tutta la messa. Perché lei conosce la messa. Se lei dice tre quarti della messa, io il programma non glielo faccio. Quindi lei mi deve parlare prima dei fatti suoi, poi quello della sua famiglia, poi quello dei suoi amici e poi quello dei suoi nemici. Altrimenti io il programma non gliele faccio. Perché? La cosa importante è quando si va a interrogare un collaboratore di giustizia, un aspirante collaboratore di giustizia, e non fargli mai tenere qualcosa per sé. perché se lui non parla di una famiglia, lui ricatta quella famiglia di Andrangheta. E gli manda l'imbasciata. E gli dice guardi, non sto parlando di te. Però, quindi ricordati. Non mi toccare i familiari. Mi toccare, proteggimi la famiglia e mandimi un po' di soldi perché mi servono qua in casa. Però tu stai tranquillo. E allora ecco perché bisogna essere attrezzati sul piano conoscitivo. Ecco perché dico studiate ai miei colleghi, studiate la storia per capire il presente. Perché c'è un sacco di gente in giro che si improvvisa. è esperto di qua, è esperto di là. E poi sento cose che se le case non fossero con pilastri forti cadrebbero. Allora, nel momento in cui questo incomincia a parlare, mi accorgo che nel racconto saltava dei passaggi. Passaggi importanti. Difendeva, voleva attaccare sui nemici. Ma io non contestavo. Ah, non lo facevi parlare. Credevo. Credevo. Poi a un certo punto, dopo sei interrogatori, mettiamo un punto. E lo incomincio a fare le contestazioni. Dico guardi qua, 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 qua. E lui ha capito che... Dico guardi, io il programma di produzione non gliele faccio. E se ricordi che se non lo firmo io il programma in Italia... Non lo firma nessuno. Nessuno in Italia firma. Senta, in questo caso lui ha un fatto del genere, che già l'opinione pubblica e i suoi amici compari sapevano che si voleva pentire. Perde quel grado di criminalità? Perde il prestigio. La perce il prestigio? Sì, sì. Perde il prestigio... Diventare il famoso infame, no? Sì, anche se poi... Sì, certo. Anche se poi uno cerca di spiegarlo, di giustificarlo, eccetera. Nella logica... C'ha provato. ...dell'indrangheta doc. Non c'è. Le carrette, loro le chiamano carrette, le tragedie, non si fanno.